eccoci qua pronti con la partita di agropolis quella che vedi è una partita senza espansione quindi con le carte base prendiamo i tre obiettivi quello non è per niente comodo allora vediamo questi obiettivi che hanno un numero veramente basso perché per vincere basta che faccia 9 vuol dire che sono abbastanza impossibili perché più basso è il punteggio più difficile fare l'obiettivo allora Harderly Impossible faccio un punto per ogni recinto di mucche che non è nella stessa riga o colonna con qualunque altro blocco di bestiame e questo è indicato nello schema poi perdo due punti per ogni recinto di mucche che è nella stessa riga o colonna ovviamente di qualunque altro bestiame qui Wine Cellar un punto per strada che passa tramite due o più blocchi di vigneti e faccio un punto negativo per ogni strada che passa attraverso 0 o 1 blocco quindi qua farò una scattervata di punti negativi qui All the way home un punto per ogni recinto di maiali adiacente alla strada più lunga e meno un punto per ogni recinto di maiali non adiacente alla strada più lunga quindi questi essendo bassi come valori vuol dire che sono difficilissimi prima carta di partenza mazzo di pesca mettiamo qua e tre carte questa la sposto un po' più in alto e cominciamo siccome ho galline, maiali e mucche cominciamo a fare quella dei maiali almeno i maiali sono già finiti questa qua no perché ci sono le mucche con gli altri così e mettiamo questa qua però questo è il risporto più su facciamo appunti almeno per i blocchi ma no non è una scelta fantastica vabbè dopo la coprirò maiali maiali 1,2,3,4,5 1,2,3,4 comincia ad essere quella la strada più lunga facciamo sempre maiali maiali strada più lunga peschiamo questa ammettiamo di mettere le mucche da tutta l'altra parte è che faccio un punto per ogni strada che non passa per blocchi di due vigneti beh questa mi piace poi sistemo le mucche perché basta coprirle e abbiamo risolto 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 questa sarebbe bella qua ma ci sono troppi animali in questa cosa e se questa la metto qua e sono sempre queste no perché tanto quello è già lì però farei più punti con le mucche e poi basterebbe una curvita rovescia però comincia ad essere questa la strada più lunga allora se io lo metto qua anche per questi tre rossi ma vabbè ma li recupero dopo proviamo questo sta bene qua così facciamo la strada più lunga quindi allora intanto copriamo queste mucche qua che non servono sposto le carte di qua questi maiali qua potrei metterli qua che così sono sempre vicini alla strada più lunga e fanno punti e mi coprono quella mucca fastidiosa e l'ultima carta è questa del mazzo poi mancano quelle tre e è finita ci vorrebbe un altro bel recinto nell'angolo ovviamente che non ho come cavolo li metto questi questo mi pare abbastanza semplice faccio poco di mucche però mi rimangono solo queste mucche da mettere non in linea e non in colonna con qualcun altro eh una parola perché qua no questa colonna riga questa e questa colonna qua anche se la metto così che sarebbe bello qua c'è il pollo che robe a parte che il pollo potrei nasconderlo qua c'è un macello di roba qua si intasa con l'altra qua piena di bestie di là sarebbe questa ma non ha senso poi c'è sta viola in mezzo che rompe per questo obiettivo qui e se non ci metto prima questa come cavolo le metto queste carte beh allora questo lo metterei qua per non fare punti negativi con la strada del vino e quest'ultima carta devo cercare di far punti con questi due recinti di mucche e vabbè faccio punti qua almeno col viola bene è finito allora conteggio normale lotti con più blocchi di bestiame è questo quindi faccio tre di bestiame due di frutteti quindi cinque più cinque di vigneti fa dieci più tre tredici di grano meno uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici quindi faccio un punto solo sono a più uno e vediamo adesso questi cavoli di obiettivi all the way home un punto per ogni recinto di maiali adiacente alla strada più lunga allora i maiali li ho messi adiacenti alla strada più lunga quindi sono uno due porca vacca questo l'ho perso uno due tre quattro cinque quindi cinque più uno sei di prima poi qui un punto per ogni strada che passa attraverso due o più blocchi di vigneti meno uno per ogni strada quindi sono a sei cinque quattro tre tre negativi perché poi invece questi sono quattro cinque sei sette perché passano attraverso due più blocchi quindi sette punti e vediamo le mucche cosa mi fanno le mucche questa fa otto nove dieci undici perché non c'è niente in colonna o in riga undici dodici dodici punti quanto dovevo fare? nove ho vinto iuhuu grazie per aver guardato questo video alla prossima